Allora faccio questo video perché mi ha dato lo spunto la signora Lina nel gruppo uncinetto moderno di Alex su facebook che ha il problema che se fa una sciarpa comunque una lavorazione rettangolare si perde delle maglie e gli viene obliqua cioè non un rettangolo perfetto questo è un problema comune capita a tutti quindi non è che bisogna sentirsi sciocchi perché non ci si riesce purtroppo perdere le maglie capita a tutti però vediamo dove sta il problema allora facciamo finta che io faccio una una sciarpa qui però facciamo 10 catenelle perché insomma dobbiamo essere veloci allora 3 4 5 6 7 8 9 10 10 catenelle se io voglio lavorare su 10 maglie devo fare facciamo finta faccio maglia bassa su 10 maglie ne devo fare 11 perché questa mi serve per voltare cioè per girare per alzare il lavoro e iniziare a lavorare dalla seconda dall'uncinetto io lavoro da qui 1 2 3 4 5 6 7 scappata la maglia 7 8 9 e 10 allora per fare un rettangolo di 10 maglie basse ne ho fatte 11 perché questa catenella è servita per girare adesso io per avere sempre 10 maglie e non perderle cioè non farne né 11 né 9 ho due possibilità o le conto tutte le volte e ma diventa stressante perché se stiamo facendo un rettangolo lungo per esempio 150 maglie insomma contarle tutte le volte non è il caso se no devo tenere presente che faccio una catenella e volto allora questa catenella io la posso non contare e far finta che mi serve solo per alzare il lavoro che significa alzare il lavoro allora se io sto così volto e inizio direttamente nella prima maglia la maglia bassa per carità lo posso anche fare però vedete come viene viene obliqua viene stretta perché dal basso è partita verso l'alto allora io faccio la catenella per voltare e appunto per alzare il lavoro stare quel mezzo centimetro ma non di meno insomma quei pochi millimetri alta per poter lavorare meglio quindi vado nella prima maglia e faccio la maglia bassa allora adesso che succede qui avendo fatto questa catenella per alzare il lavoro c'è chi la conta chi la conta proprio come sostituto della maglia l'ho fatto un po troppo me la faccio un po più grande se no non si vede c'è chi la conta proprio come sostituto della maglia e va a lavorare direttamente nella seconda però questo è proprio il modo poi per saltarla quando andiamo a lavorare nel giro di nella riga di ritorno perché la catenella messa così non si vede non sembra un punto preciso e uno tende a saltarla allora io che faccio per non sbagliare io quella catenella la allora faccio la catenella per alzare ma poi nella stessa maglia della catenella ce la vado a fare la maglia bassa in pratica la catenella a me serve solo per voltare non non ha una funzione cioè non viene contata quindi io vado avanti 3 4 5 6 7 8 9 e 10 vedete qui per esempio no qui ho la catenella che ho voltato e poi ho la maglia bassa se avessi avuto solo la catenella io non vedevo questa maglia e rischiavo di sbagliare ma adesso lo vediamo meglio da quest'altra parte catenella giro nella maglia da dove parte la catenella la vedete questa qui io ce la faccio la maglia bassa ecco e arrivo fino all'ultima adesso io non conto più no come fare per non sbagliare perché il problema dei rettangoli sta tutto in questa prima maglia che poi diventa l'ultima uno la salta e sbaglia siamo arrivati all'ultima io qui ho la maglia bassa che ho fatto nella prima maglia e questa catenella vedete questo occhiello che solo per voltare quindi io vado nell'ultima maglia bassa e la faccio basta così non andate poi a lavorare pure nella catenella se voi sapete che la catenella non si conta quella poi non la lavorate quindi catenella volto la catenella non la conto mi è servita solo per alzare il lavoro prima maglia comincio 1 2 eccetera eccetera fino a 10 ok e il rettangolo viene dritto sono sempre 10 maglie ok perlomeno io faccio faccio così ora vediamo però un attimino aspettate e questa era la maglia bassa vediamo il caso della maglia alta allora maglia bassa vedete questa è l'ultima questo questo occhiello così è la catenella che voltava questa è la maglia vera la vado a fare perfettamente dritto e allineato adesso vediamo il caso della maglia alta allora la maglia alta c'è chi la sostituisce all'inizio con due catenelle chi con tre io preferisco fare due catenelle invece di tre perché tre secondo me avanzano due due sono sono più basse rispetto a una maglia alta vera ma io preferisco più bassa che più alta perché più alta poi avanza e fa insomma fa un effetto che non mi piace allora due catenelle nel caso della maglia alta se fate due catenelle queste sostituiscono la maglia non andate a fare la maglia qui dentro così no perché questa sarebbe una maglia in più nel caso della maglia alta le due catenelle la sostituiscono quindi andate a lavorare direttamente nella seconda in questo modo quando poi nel giro di ritorno non fate caso sto facendo delle maglie alte fatte male vabbè tanto qui non è un lavoro è solo una dimostrazione nel giro di ritorno che adesso ci arriviamo però vi faccio vedere come dovete lavorare la prima maglia alta che nel giro di ritorno diventa l'ultima vediamo nel giro di ritorno arriviamo quindi all'ultima maglia che sono queste due catenelle o tre se preferite farne tre queste qui invece le dobbiamo lavorare rispetto al discorso che vi ho fatto prima della maglia bassa lì nella maglia bassa la catenella l'avevo fatta solo per voltare ma non contava come maglia vera qui invece le due catenelle contano come maglia vera allora quando contano e bisogna lavorarla quindi sulla seconda di queste catenelle che ho fatto strettissima vabbè non fateci caso poi uno quando lavora davvero insomma lavora le maglie le fa meglio vado a fare la maglia alta ecco qua e non rifatte perfettamente 10 nel caso della maglia alta c'è anche un'altra possibilità cioè fare la stessa cosa della maglia bassa una catenella che non si conta e cioè una catenella invece di due e allora poi vado a lavorare nella prima una maglia alta in questo modo questa è un'altra possibilità si può fare anche così vedete chiaramente la catenella d'inizio è stata fatta solo per alzare il lavoro e non si conta diciamo quando è che si sceglie di fare così e quando è che invece si sceglie di fare le due catenelle qui non c'è non c'è una regola precisa dipende dal lavoro che si sta facendo dal disegno dello schema quindi quello bisogna regolarsi al momento comunque se state seguendo un tutorial o uno schema di giornale c'è scritto lì cosa dovete fare all'inizio voi dovete sapere solo che quando all'inizio della riga ci sono due catenelle o tre quelle sostituiscono la maglia alta e quindi si va a lavorare sulla seconda ok vedete perché non ne faccio tre io ne faccio due perché fa così fa questo buco a me non piace io preferisco farne due lavoro nella seconda le due catenelle sono un pochino più basse però vedete che il buco non c'è l'altro caso che vi ho appena fatto vedere quando c'è a inizio giro solo una catenella allora lì una catenella da sola non può sostituire una maglia alta intera allora lì la maglia alta nella prima maglia del giro l'andate a fare ecco qua e vedete insomma ripeto l'importante è lavorare su tutte le maglie vengono storti quando uno ne salta una o ne fa una in più voi dovete decidere all'inizio come comportarvi con la prima maglia una volta che avete preso quella decisione dovete andare avanti in modo coerente sempre nella stessa maniera in quel modo non salterete le maglie e poi un altro consiglio che vi do per non sbagliare nei rettangoli è il consiglio più ovvio è quello di contare tutte le maglie certo se state facendo una riga lunga 150 maglie contare tutte le volte è noioso magari non conterete tutte le volte ogni 3 4 giri per controllare ricontate tutte le maglie se vedete che ne manca una ce n'è una in più due in più è ovviamente sfasciate e ritornate dove avevate contato potete anche mettere dei marca punti nel senso voi sapete questa riga l'ho controllata era giusta ci mettete un marca punto continuate a lavorare per altre 4 5 righe ricontate se avete sbagliato risfasciate fino a dove c'è il marca punto perché qui sapevate che erano giuste se sono giuste andate avanti e laddove avete ricontato rimettete un altro marca punto così sapete che state andando bene spero che questo tutorial vi sia stato utile per qualsiasi domanda voi fatemele e ne parliamo insieme